Buonasera, sono Andrea Fajardo della rivista digitale Spes, noi ci concentriamo non soltanto nel pensiero critico e filosofico, ma anche nella vita pubblica. Questa sera ci troviamo con il nostro editore capo, Fernando Gallindo, e anche con un caro collaboratore a Roma, Valerio Pellegrini, che lui in questo periodo è anche un candidato per Roma nel municipio Tavo. Grazie Valerio per essere qui e anche ce l'ho due domande troppo puntuali per te. La prima sarebbe perché una persona deve continuare a credere nella politica anche se ci guardiamo a tutti questi politici, la politici, la corruzione, soltanto troviamo desiluzione. Sì, è una bella domanda, una bella domanda complessa. Innanzitutto volevo ringraziarvi per ospitarmi qui, per questa intervista, ringraziare Spes, ringraziare te Andrea e ringraziare Fernando, Fernando Gallindo. La domanda che mi fai, sì, diciamo, è ciò che mi ha spinto a fare politica in realtà. A mio parere la politica siamo tutti noi, non c'è una differenza tra noi e loro, noi e queste eminenze grigie che governano le nostre vite, che governano il mondo, queste persone corrotte. Ecco, la politica sono le nostre scelte di tutti i giorni. Va da come buttiamo la mondezza, a cosa compriamo, da come gestiamo la nostra strada, dove viviamo, a magari politiche più complesse che riguardano temi più complessi come l'economia o la transizione ecologica. Quindi la politica è sia nel piccolo che nel grande, ma ci riguarda tutti. Ecco, io penso che oggi giorno sì, sono in molti a essere disillusi della politica, ma forse la risposta a questo è quella di iniziare a ricreare il senso di comunità, le relazioni. La politica è relazione innanzitutto, è un ascolto reciproco. Vediamo spesso nei talk show, nelle interviste, nella cronaca politici che si parlano addosso o che parlano l'uno sull'altro, che urlano, che non si ascoltano di fondo. Ecco, l'immagine che abbiamo avuto della politica negli ultimi forse 15 anni è stata questa. La politica, per l'esperienza che sto facendo, in realtà forse è proprio il contrario, imparare ad ascoltare. Quello che mi sta dando questa esperienza come candidato per la lista civica calenda sindaco è innanzitutto questo, imparare sempre di più ad ascoltare. Ho notato che quando approccio magari una persona, iniziando a parlarle del programma o della lista civica, già parte appunto prevenuta. Mentre se inizio dialogando come persona che ha deciso di impegnarsi in politica, come Valerio Pellegrini che parla a un'altra persona, ecco, il dialogo inizia subito in modo diverso. E allora lì si può arrivare a parlare davvero delle proprie idee, della propria visione, ma in modo civile direi, ascoltandosi gli uni con gli altri. Quindi perché impegnarsi in politica? Innanzitutto, come ho detto all'inizio, perché la politica siamo tutti noi, sono le scelte che facciamo ogni giorno nella nostra vita, come ci relazioniamo con gli altri, come puriamo i luoghi dove viviamo. E in secondo luogo perché è un'esperienza di crescita, di ascolto e soprattutto di relazione, di rientrare in contatto di nuovo sia con il tessuto sociale della propria città, del proprio quartiere, ma anche con la realtà che ci circonda. Troppo spesso vediamo anche la città o i luoghi che abitiamo come qualcosa di altro da noi, come vediamo anche i politici, qualcosa di altro che sta lì, sono corrotti, decidono per noi. Ecco, invece l'entrare in politica ti fa avere uno sguardo diverso sulla realtà che ti circonda e sulle persone che ti circondano. Hai uno sguardo di cura, mentre prima magari ti lamenti, dici, guarda quanta spazzatura, quanti rifiuti, non va bene niente, i trasporti non funzionano. Ecco, quando entri in politica ne diventi responsabile, che è diverso, devi dare una risposta, rispondere, questa è la responsabilità, saper dare una risposta interiore a dei problemi reali. Quindi penso sia un'esperienza che tutti dovrebbero fare, chissà un giorno, fare anche una campagna elettorale, a prescindere che si vinca o si perde, è proprio un'esperienza di crescita per servire la propria comunità. Questo è come mi sento di dire in breve. Sì, grazie. E anche sei un candidato molto preparato, hai studiato molto, sei dottore in filosofia, hai una tesi di politica regenerativa molto interessante e anche, innanzitutto, come hai detto, sei molto vicino alla gente. Perché hai deciso di partecipare in questo... non è un partito propriamente? È una lista civica? Sì, è una lista civica. Allora, sì, innanzitutto vorrei sottolineare questo, che mi sono candidato con questa lista civica, questa lista civica Calenda Sindaco, che è una lista che appunto si presenta alle elezioni amministrative di Roma, adesso del 3-4 ottobre. Per quale motivo mi sono presentato con la lista civica Calenda Sindaco? Proprio perché è una lista civica, ossia è svincolata dai partiti, è svincolata da certe dinamiche, che soprattutto nella nostra città, a Roma, pian piano hanno portato a un arresto delle politiche, direi appunto generative, per questa città. Diciamo, una volta eletti, per dirla in romano, in dialetto romano, non dobbiamo dare resti a nessuno. Una volta eletti possiamo realizzare davvero un programma serio che proponiamo e questo progetto di onestà e serietà mi ha appassionato e mi dà la speranza di poterlo realizzare davvero. Dopo tanti anni in cui, come hai detto tu prima, sembra che i politici siano corrotti, questa disillusione che regna ovunque, sembra appunto non solo in Italia, quindi anche in Messico. Ecco, cercare di riconnettere la politica alle situazioni reali, indipendentemente da idealismi fine a se stesso. Ecco, risolvere situazioni concrete credo sia una via possibile per la politica oggi. In questo senso, forse mi posso connetter a quello che dicevi, della politica generativa. Sì, appunto, anche io ho sviluppato nella mia tesi di dottorato questa visione della politica. una politica generativa è una politica che prende innanzitutto consapevolezza della realtà esistente, delle situazioni concrete esistenti. Non ci cala sopra un'idea subito. È una politica che osserva il reale, ne prende consapevolezza e da lì propone una risposta, ma non a partire da un ideale calato dall'alto, ma piuttosto un'ideale che è sollecitato dalla realtà. Ecco, questa è la differenza tra una politica generativa e una politica appunto basata su stampi predeterminati, per dirla così. Per dirla forse con San Tommaso d'Aquino direi, non razio est mensurare erum set potius e converso. Cioè non è la ragione e la misura delle cose, ma sono le cose che mettono alla prova i nostri ragionamenti. In questo senso ritengo questa possibilità che ho avuto di candidarmi come consigliere per la lista civica calenda, sindaco, un esempio di politica generativa in cui si vuole andare al concreto delle cose e dare una risposta anche lì, che parte dal reale per generare una realtà nuova, diversa, non a partire da idee preconfezionate, ma da problemi reali di cui si è preso consapevolezza, veramente. Ecco, questo in breve. Valerio, io voglio una domanda, in spagnolo e italiano. Le giovani, i giovani, non si interessano nella politica o si interessano con una visione demasiado idealista? Veo come due extremi. Per un lato, piensano che nada può cambiare e non hanno una esperanza e cae in la apatia. E per un lato, hanno una visione a volte buona, a volte problematica, demasiado idealista, poco concreta, con demandas, non con preguntas, sino demandas, exigencias, che non si possono satisfacere. E quindi non si acercano a la politica. Che le dirías tu a questi giovani? Le diria, antes di tutto, che hai che redescubrire il sentito di comunità e, in secondo lugar, che hai che involucrarsi nella politica. Hai che fare esperienza della politica per poterla, no? Evaluare con con occhi differenti. Io, per esempio, è la prima volta che mi ha fatto una campagna electoral e faccio una campagna electoral. E devo dire che è qualcosa entusiasmante. Come diceva, è un lavoro di esclusione, però anche è un flujo continuo di energia, no? De posibilità che si abri, di cose per realizzare, di cose per realizzare, e è questo flujo di energia che credo è una, diciamo, un'encarnazione, un'emanazione del sentito di comunità, che credo che è quello che abbiamo perduto come civilizzazione, soprattutto occidentale. Abbiamo perduto il sentito di comunità, del comunus, del don comun che abbiamo, l'uno per l'altro. E ai nostri giovani di oggi diria questo, prima di tutto, di riscubriere come un don, no? Il uno per l'altro, per riscubrire la comunità e il sentito della comunità. La apatia nace di questo, di sentirsi excluiti dalla relazione di una comunità. Del altro lato, l'idealismo è un'altra, diciamo, degenerazione della perdita del sentito della comunità. Quindi uno si rifugia a si stesso, uno si rifugia nei suoi ideali. Per dirlo in italiano, da un lato, se si perde il senso di comunità, da un lato ci si può o rifugiare nell'apatia o cadere nell'idealismo. Tutte e due queste possibilità ci allontanano dalla realtà e dalla possibilità di, invece, vivere la comunità come un dono. La comunità, nella sua radice etimologica, è scoprirsi come dono per l'altro, da cum munus, no? Il dono insieme. Ecco, la politica è proprio questo, donarsi. Nel donarci ci scopriamo dono, quindi riscopriamo la comunità. E la politica è proprio, non è diventare Presidente degli Stati Uniti, non è diventare... Ecco, è vivere già nel piccolo con un occhio diverso, con un occhio di cura e responsabilità verso se stessi e gli altri, per ricostruire un tessuto sociale, un tessuto comunitario in cui ci si può realizzare sia come persone e individui, sia come comunità, tutti insieme. Passando forse da un individualismo di un io sono a un noi siamo, ecco. Questo... ed è un'esperienza entusiasmante, come lo dicevo in spagnolo, è che è un'esperienza davvero pazzesca. Una volta che sei in una campagna elettorale non ti fermi più, è un flusso continuo di energia. Ecco. Spero di essere stato breve e di non... Sì, sì, breve e buono. Grazie, grazie, Fernando. Te diciamo buona fortuna, perché sarà buona fortuna per Roma. Muchissimas gracias. Muchissimas gracias. Grazie per questa intervista. In bocca al lupo. Grazie Andrea, grazie Fernando. Hasta pronto, nos vemos... Hasta la prossima. Buona suerte, Valerio. Grazie a tutti.